Un conto speciale che avete fatto è veramente una cosa che non si vedono tutti i giorni, nemmeno loro lo vedono tutti i giorni, che si sono ritrovati tanti da molti che non mangiavano insieme, che avete dato una gioia alle altre persone. Allora per me è questo che dice la Bibbia che c'è più gioia. Voi avete lavorato, avete sudato tanto, ma sicuramente la importanza vostra è tanta gioia che avete fatto una cosa bellissima. Sono tanto questo e tanto auguri grazie.